Ricerche 2 Schifo o pietà? Appurato che gli italiani, di fronte a delle domande generali, oppongono una serie di innocenti e un po' balordi no comment, vediamo un po' che cosa succede di fronte a una domanda precisa, brutale, bruciante, come per esempio l'omosessualità. Ungaretti, secondo lei esiste la normalità e la anormalità sessuale? Senta, ogni uomo è fatto in un modo diverso, nella sua struttura fisica è fatto in un modo diverso, è fatto anche in un modo diverso nella sua combinazione spirituale, no? Quindi tutti gli uomini sono al loro modo anormali, tutti gli uomini sono in un certo senso in contrasto con la natura. E questo sino dal primo momento, sino dal primo momento, l'atto di civiltà, l'atto di civiltà che è un atto di prepotenza umana sulla natura, è un atto contro natura. Sono molto indiscreto se le chiedo di dirmi qualcosa a proposito di norme, di trasgressione della norma, sulla sua esperienza intima, personale. Beh, io personalmente che cosa vuole? Io personalmente sono un uomo, sono un poeta, quindi incomincio col trasgredire tutte le leggi facendo della poesia. Ora sono vecchio e allora non rispetto più che le leggi della vecchiaia, che purtroppo sono le leggi della morte.